È un grande piacere essere qua a Roma nel giorno della fondazione di Roma per istigazione divina e i figli di Rea e di Marte sono stati gli istigatori, Roma e Remolo Oggi è un periodo molto interessante di tempo Noi stiamo sperimentando la riscrittura di ogni campo della nostra realtà Forse voi mi conoscete meglio per la cosa della musica 430 Noi siamo i fondatori della rivoluzione musicale popolare e elettronica della musica 432 Hz Ma molto prima di ciò un grande italiano come Giuseppe Verdi Come Giuseppe Verdi nella musica classica era già un pioniere della musica 432 Hz Il nostro 432 si correla agli ultraterrestri ma magari toccheremo anche questo argomento Però per questa presentazione di stasera, nelle ultime settimane, ho compresso e compresso e compresso un sacco di diapositive Per gestire, per riuscire ad avere a che fare con questa quintessenziale esperienza 31 anni che insegniamo in pubblico E 44 anni fa abbiamo avuto il nostro primo contatto Prima di cominciare Prima di cominciare Vorrei dire che noi stiamo presentando la nostra presentazione in modo non dogmatico L'età del guru è finita L'età del guru è finita L'età del guru è finita E l'emergenza delle persone, della gente sciamanica Della gente conscia e senziente È quello che sta succedendo adesso Quindi noi siamo una voce, siamo un'opera d'arte Con una vita di esperienza Quindi questo è un lavoro d'arte Un'opera d'arte Ma ci sono un sacco anche di esperienze di contatto Che sono dietro di noi Intelligenza ultraterrestre È il nome del gioco Il processo che sta avvenendo adesso di rivelazione Del fatto che non siamo soli nell'universo Involve non l'ETI ma l'ultraterrestre L'UTI Non ha a che vedere con gli ETI ma con gli UTI Noi abbiamo avuto degli incontri molto ravvicinati Siamo stati all'interno dell'osservato Abbiamo incontrato gli esseri faccia a faccia Da adolescenza il mio corpo è stato ridigitalizzato E abbiamo un sacco di testimoni Psicologi Lieutenanti Physici Credible witnesses Sono dei testimoni credibili E' importante avere testimoni credibili Allora, prendiamo la definizione dal dizionario urbano Della termine ultraterrestri Essenzialmente si tratta di un essere di un'altra dimensione Anche se noi alla fine di questa presentazione andremo oltre la dimensione Allora, su Wikipedia l'interdimensionale è correlato all'ipotesi dell'interdimensionale Che gli UFO non sono extraterrestri ma interdimensionali E che viaggiano anche attraverso tempi diversi Ma è ancora più di questo Ma è ancora più di questo La nostra esperienza diretta e i testimoni che erano con noi Osservano il supremo oggetto spirituale nel fisico È praticamente il nucleo più profondo ontologico della psiche Del fondamento della psiche stessa Che personifies itself Che viene personificasi personilità Into a living vehicle In un veicolo vivente Che trasmette universi di infinito amore compassionevole In coscienza coerente Editing reality E fa l'editing della realtà So coming into the physical Quindi entra nel fisico Editing the physical Edita il fisico Interacting with the psychological Interagisce con lo psicologico The subjective And bringing that into the objective E lo porta nell'oggettivo And as a result producing A spiritual transformation A shamanic experience E come risultato produce una trasformazione spirituale Un'esperienza shamanica Un processo di interfaccia Con il segreto esistenziale di chi noi siamo veramente All'età di due anni e otto mesi Ho avuto il mio primo contatto con gli Emanuels L'ombrello ultraterrestre Sotto il quale operano diverse civiltà ultraterrestri In una miriade di spettri che vengono chiamati loca Che sono allo stesso tempo legati al genoma genetico del nostro corpo Since the age of 15 we were educated by the Emanuels Dall'età di 15 anni in poi siamo stati educati dagli Emanuels They came into the physical Che sono entrati nel fisico They gave libraries of living vivid information Che hanno dato biblioteche di informazioni vivide e viventi Biblioteche olografiche Della cosmologia del tutto Della cosmologia del tutto Gli Elohim in senso ebraico We all are the Emanuels Noi tutti siamo gli Emanuels È il nostro fondamento They have their root from the Vedas Hanno le loro radici dei Vedas Come Manu Il segreto di chi noi siamo Il segreto di chi noi siamo Secondo loro Come mi hanno comunicato durante gli anni Ottanta È che l'essere umano oggi È una combinazione È una combinazione Of civilizations in our far future Di civiltà che sono nel nostro lontano futuro In our past going to the far past Nel nostro passato nel lontano passato And in alternate spaces and universes E in spazi alternati e universi alternati We are the montage Noi siamo il montaggio di tutto And this is a designer planet E questo è un pianeta di design Nature is absolutely artificial La natura è assolutamente artificiale Everything is a grand conspiracy Tutto quanto è una grandiosa cospirazione A spiritual conspiracy Una cospirazione spirituale Tailored uniquely for each individual Che ci è stata proprio fatta su misura per ciascun individuo And reality is transforming Undeniably E la realtà si sta trasformando in modo innegabile A livello fondamentale And ultra-terrestrial vehicles E i veicoli ultra-terrestri Are clearly documented to be part of that Sono chiaramente documentati Essere parte di ciò Ma riguarda noi The foundation of the emergence Of anthropic consciousness È il fondamento dell'emergere Della coscienza antropica True sensience is coherence In heart and mind La vera sensienza è la coerenza di mente e di cuore E oggi, per la prima volta nella storia registrata, ognuno di noi può oggettivamente attualizzare questo. Le civiltà ultraterrestri non interferiscono con un pianeta di design, solo come luci di guida, oppure per portare diverse coincidenze insieme, per amplificare i nodi del subconscio o dell'inconscio collettivo, in modo tale che essi vengano risolti. Loro probabilmente assistono e amplificano l'emergere della coscienza senziente nell'umanità. Perché questo nostro pianeta è la nostra di design, è la rirealizzazione del nostro essere ontologico, della nostra essenza ontologica. Non esiste una scuola che è la via. Questo pianeta di design, questo pianeta artificiale, artificiale sistema solare, con un sole e una luna parcheggiati in modo artificiale, in perfetti esatti linguaggi armonici musicali, che vanno oltre qualsiasi coincidenza, è designato per farci avere la nostra unica rirealizzazione. Da bambino sono nato in una generazione di artisti multigenerazionale, e mio nonno era piuttosto famoso, in un lignaggio merovingio, in bene o in male. Mia madre era un'artista, mi ricordo di essere nato, e di aver detto a mia madre nella mia infanzia, e nel 1972, we went for the first time into the ultra-terrestrial golden light sphere, sono andato per la prima volta in questa sfera di luce dorata degli ultra-terrestri, in the area above the Sion Valley region of Switzerland, nell'area che si trova sopra la valle di Sion in Svizzera, mia madre stava dipingendo gli alberi in paesaggio, e io giocavo nel bosco, vicino a un ghiacciaio, nel momento in cui ho avuto la mia prima esperienza, sono sparito per diverse ore. Questa è la regione, i bambini si sono rarifatti perché si sale come in altezza. Io ero seduto che giocavo qua vicino a un lago, giocavo nella sabbia, e ruminavo lo spazio intorno a me, ero allontanato da mia madre. E poi, inoltre, una sfera dorata e io ci sono entrato dentro. e entrai in un qualcosa. E molte volte che ho passato quel portale, e mi è successo diverse volte fisicamente, è stato molto difficile portare delle memorie. Ma non è una perdita di tempo. Questa idea dello scarto di tempo è stato inserito di proposito dalla gente dell'amministrazione di Eisenhower. Quindi mentre ero lì a ponderare sul pond, che è il laghetto, è un gioco di parole, ed emerge la sfera dorata, era una sfera piena d'amore, e di naturalezza dell'essere, un qualcosa che io conoscevo. Sono sparito per ore. E avevo due anni e otto mesi. Mia madre è andata nel panico quando non riuscì a trovarmi. Quindi organizzò una squadra di ricerca per il suo figlio. La squadra di ricerca era capeggiata da un tipo che si è comune. Era uno di famiglia, del lato dello svizzero, della famiglia. E quando uscì dalla sfera, incominciai a scrivere, a fare degli otto, delle lemniscate sulla sabbia. In un perfetto stato dell'essere. I noticed that Jean-Luc was walking through the forest with his colleagues, looking for me. Notai che Jean-Luc se ne stava andando in giro con gli altri a cercarmi, and calling my name. E chiamava il mio nome. And I wondered why he couldn't see me. E mi chiedevo come mai non riuscisse a riuscire. I now emerged from the golden sphere. Era appena emerso dalla sfera dorata. I was in a localized state. Ed ero in uno stato localizzato. Later on in my life, in my 19th year, Più avanti nella mia vita, a 19 anni, I also disappeared for several hours. Sono sparito di nuovo per ore. Through ultra-terrestrial translation technology. Attraverso la tecnologia di traslazione ultra-terrestre. And I was invisible. The body was invisible. E il mio corpo era invisibile. For people a few meters away. Per le persone che si trovavano a qualche metro di visita. And I was in a completely different body state. Ed ero in uno stato corporeo completamente diverso. I used to call it a fourth dimensional state. Io ero solito chiamarlo in uno stato quadridimensionale. But today all I can say is I don't know. Però oggi quello che posso dire è non lo so. I had four faces. Ho quattro facce. Four arms. Quattro braccia. Four chests. Quattro pezzi. Everything had spun and unified. Tutto era in spin e unificato. And I had gone into space. Ed ero entrato nello spazio. And it was connected to the Emanuels above me. Ed ero connesso agli Emanuels di sotto di me. And seeing the different suns. Connected by strings of light. Connessi fra loro da delle stringhe di luce. Which today are showing in the NASA photographs. Che oggi vengono mostrate dalle fotografie della NASA. And they're being tuned by mother chefs. E queste cose venivano sintonizzate da delle astronavi. So eventually in 1972 I announced myself to Jean-Luc. Alla fine nel 72 mi annunciai a Jean-Luc. And with great pride he announced me to my mother. E lui orgogliosamente mi portò a mia madre. And he got a whole bar of Swiss chocolate. E ricevete una tavoletta così di cioccolato. I never had a whole bar to myself. Almeno del mai è stata data una tavoletta così di... Complete big boy. That's unfair. I announced myself to him. Non è giusto. Sono stato io a farmi vedere a lui. So as a result I remember that for the rest of my life. Come risultato questo bel cioccolato me l'ha fatta ricordare per il resto d'amore. Il cioccolato. During my childhood I had numerous UFO experiences. Nella mia infanzia ho avuto diverse esperienze di UFO. Contact experiences. Esperienze di contatto. But only in 1985 Ma solo nell'85 Did I undergo through a voluntary process. Ho fatto... Ho subito un processo volontario. And this is one of the paintings my mother made of the area. Questo è uno dei dipinti fatti da mia madre dell'area. At the time this is the forest I went into. Questa è la foresta in cui io ero entrato. And it's dated 1972. E qui è firmato 1972. So we know the exact time. Quindi sappiamo il momento esatto. When I was 15 in 1985 Allora ai 15 anni, nell'85 Several ultra terrestrial contactees were activated at the same time. Diversi contattisti furono attivati allo stesso tempo. Yours truly. Il vostro con... Veramente vostro. Pat Rodegast. Pat Rodegast. And Alan Karna. Alan Karna. Karna. Pop star. Quite a famous pop star in England. Era una famosa pop star in Inghilterra. From similar emanations of the ultra terrestrial races. Da diverse... Da emanazioni simili delle razze ultra terrestre. Per me è stato un evento in bicicletta. BMX Bicycling. Mi stavo allenando per un campionato di bicicletta. Pushing my body, no pain, no gain. E stato proprio spingendo il mio corpo al massimo. Senza sforzo non c'è risultato. Using the mantra of Kate Bush. I made a deal with God. I'm running up that hill. I'm running up that building. E usavo come la canzone di Kate Bush come mantra. Ho fatto un patto con Dio. Sto salendo su per quella collina. Salgo su per quell'edificio. Which had just been released on August the 11th, 1985. Quel disco era appena uscito nel 11 di agosto dell'85. In the area of the Glastonbury Zodiac of England. Allora, nella zona dello Zodiaco di Glastonbury, Inghilterra. 12 islands. 12 isole. That were given to Joseph of Arimathea. Che erano state date a Giuseppe di Arimathea. Also known as James the Just. Conosciuto anche come Giacomo il Giusto. The brother of the Lord. Believed to be the brother of Jesus. Il fratello del Signore. Che si credeva essere il fratello di Gesù. These 12 islands were given to him tax free by King Abiragos. Allora, il re Abiragos gliel'aveva donate queste 12 isole senza tasse. They are stargings. Sono delle porte stellari. They have the same positions according to the procession of the equinoxies. Hanno le stesse posizioni secondo la processione degli equinoxi. The 12 star gates or houses. Le 12 case o le 12 star gates. And he was given or he established a council of 144. Lui stabilì un concilio di 144. On these 12 islands. Su queste 12 isole. With tunnel systems working with the Christ Grail alchemy. Con dei sistemi di tunnel che lavoravano con il sistema del Graal. L'alchemia del Graal Cristico. The Ambrosia, the sacramental Ambrosia of Merlin. L'Ambrosia sacramentale di Merlin. So it was in the constellation of Virgo. Nella costellazione della Vergine. Or Ginevra. Or Ginevra. That I had the bicycle accidents. Io ebbi il mio incidente in bicicletta. This is where I hit my head on the top of the road. Qui è dove ho battuto con la testa in cima alla strada. At full speed the chain came off my bike. Stavo andando a tutta velocità e la catena della bicicletta si staccò. Everything went in slow motion. Tutto era come al rallentatore. There was a bright flash on the right side of my forehead. C'è stato un forte flash luminosissimo sulla parte destra della mia fronte. Bianco, pezzi di blu e oro. Everything started spinning. Tutto incominciò a ruotare. And we went into a hypersfera. E sono andato finito in un'ipersfera. Circondato da esseri dorati. Which I had always known. Che io ho sempre conosciuto. Conoscevo da sempre. I saw emanazioni da quella sfera del passato. The experience of two years old. Other experiences at childhood. La mia esperienza a due anni. Altre esperienze dell'infanzia. Experienze in the future. Contact experiences. Experienze di contatto. With the UFO translation experiences. Con le esperienze di traslazione dell'UFO. Darkroom experiences. Shamanic experiences. Experienze shamaniche. Experienze di darkroom. This sphere was past, present and future. Questa sfera era passato, presente e futuro. And these beings were as one with me. E questi esseri erano una cosa sola con me. I was aware that my body was lying on the road. Ero consapevole che il mio corpo giaceva sulla strada. And a car was coming this way. Would not have seen my body. Because there is a hill going down. E se una macchina veniva da questa direzione. Non l'avrebbe visto. Perché c'era come una specie di dosso. And I had an expensive BMX bicycle. E io avevo... La mia bicicletta era anche super cara. With titanium flight cranks. Very important. Con delle cose di... Cose di titanio che erano molto importanti. It would be crushed. Of course my body would be too. But that was important titanium pants. Sarebbe stata distrutta se una macchina sarebbe arrivata anche al mio corpo. Sarebbe stato distrutto. Ma quei pezzi di titanio della bicicletta erano importantissimi. So I was able to bring myself into the body. Quindi sono riuscito a riportarmi nel corpo. Pulled to the side of the road. So tirato da un cellulato del ciglio della strada. And then I went out for a period of time. E poi sono di nuovo andato fuori per un certo periodo di tempo. The intelligence of the Emanuels told me to get on the bike. Le intelligenze di Emanuels mi dissero di salire in bicicletta. Everything was spinning. Tutto stava girando. Andavo e uscivo di coscienza. They told me they would ride my body. E mi dissero che avrebbero guidato il mio corpo. So periodically over many kilometers I would come back to my body and they were cycling my body. Ecco, quindi periodicamente nel corso di diversi chilometri ritornavo nel corpo e loro comunque guidavano il mio corpo in bicicletta. Eventually I was taken to the hospital. Alla fine fui portato in ospedale. Brain scans, etc. E hanno fatto la scansione cerebrale e tutto quanto. Everything was normal. Tutto era normale. But it wasn't. Ma non lo era. I was utterly transformed. Io sono stato trasformato. I couldn't play being a 15 year old anymore. Non potevo più fare il gioco di essere un piccolo genio. I knew why I came to the planet. Sapevo perché ero venuto sul pianeta. E sapevo anche che l'umanità è molto di più di questo pianeta. E c'è questa più grande, più vasta umanità o genere umano. E questa, essa, si sta affondendo, si sta risvegliando nell'umanità. And within weeks, I started having UFO sightings. Ho incominciato ad avere delle visioni degli UFOs. I would summon the UFOs. Li evocavo, li invocavo. They would appear. Comparivano. They would jump. Saltavano. They would change angles. Cambiavano angolo. They would pulse flash at me. Mi mandavano dei flash di luce. I would concentrate on them. They would jump. Concentravo su di loro. Loro saltavano. Zigzag. Andavano a zigzag. Dematerializzavano. Rematerializzavano. Riapparivano. And so I told my mother. E così l'ho detto a mia madre. I'm not going to school anymore. Non vado più a scuola. I come from another planet. Vengo da un altro pianeta, io. Sì, sì, sì. So I take her outside. Quindi la portai fuori. Do my summation. Faccio la mia chiamata. And showed her and said, look. E le faccio vedere, guarda. So she didn't quite know what to make of that. Non riusciva a capacitarsi. Lei non sapeva cosa fare. And I didn't go back to school. E non sono più tornato a scuola. I went to the Emmanuel College. Sono andato al college degli Emmanuel. I started to receive nightly instructions. Ho incominciato a ricevere delle istruzioni notturne. A series of breathing exercises. Una serie di esercizi di respirazione. che mi permetteva di fare determinati spins per viaggiare in altri spazi. E con questo c'erano diverse intelligenze. È una lunga storia. E quindi c'erano atterraggi di UFO. There were all kinds of different contacts. C'erano tutta una serie di tessi contatti. And I started bringing more and more people to experience this. E incominciai a portare sempre più persone a farne esperienza. And received thousands of pages of living information. E ricevetti migliaia di pagine di informazioni viventi. Questo è andato avanti per sette anni buoni. Alcuni UFOs atterravano. Io entravo. E avevo persone in prossimità. As I would step into a stargate that was activated underneath the UFO. Quando entravo in uno stargate che veniva attivato da sotto l'UFO. E le persone mi vedevano trasformare in blu elettrico. Digitalizzarmi e svanire. Mettevano la mano e non c'era nessuno. Perché ero entrato nell'Ethernet. Che sono dei tubi di etere. Che erano disposti come una sorta di architettura da questi UFO. Physically Seen. Che unifero i campi. Di ogni area. E sono praticamente dei sintetizzatori della nostra realtà. I dedicati tutto il mio corpo. Al risveglio dell'umanità. Con le cività ultraterrestri. Questa era è stata una scelta senza possibilità di ritorno. In meantime we went into hundreds of different fields. Nello stesso tempo sono entrati in migliaia di campi diversi. We were already musicians before the bicycle accident. Eravamo già musicisti prima dell'incidente in bicicletta. Ma a causa delle immagini viventi di Emanuele. Tutti i campi delle scienze. Became revealed. Vennero rivelati. I could take a pile of scientific Americans. Potevo prendermi una pila di riviste scientific Americans. E loro mi dicevano apri questo o questa pagina. E leggi. E io non capivo niente. Complex particle physics. Perché era una complessa fisica delle particelle. E poi emergeva un'immagine di vento. E una di queste immagini olografiche che è connessa con tutti gli aspetti dell'universo e oltre in modo olografico. E il testo si avvolgeva intorno all'immagine. E all'improvviso comprendevo il campo. Sia che si trattasse degli adroni, delle particelle subatroni, di altri tipi di fisica. O vari altri tipi di astrofisica. E geometria. Così potevamo ramificarci in molti campi diversi. Nell'89 a dicembre Fumo traslato Nel giro di due ore Attraverso una serie di campi UFO Rotated around the body Che ruotavano intorno al corpo Dagli Emmanuel Dagli Emmanuel E io volevo andare fisicamente sulla luna di Giove, su Ganymede C'è andato lì da quando avevo 16 anni In uno stato di proiezione Che io ero solito chiamare Realtà virtuale extraterrestri Entrate in un raggio Avete un corpo cibernetico Che ha una rappresentazione dei vostri cinque sensi E sembra reale Vienemente portata attraverso dei veicoli Through portals Attraverso dei portali Attraverso delle stazioni To Mars Di Saturno Attraverso Mante Even through the Sun Anche attraverso il Sole But often to the moon of Jupiter, Ganymede E spesso comunque questa luna di Giove, Ganymede Underneath the moon Sotto la luna In transdimensional rooms In stanze transdimensionali That were translinguistic Erano translinguistiche So a being from any particular dimension Or planet could step in Quindi un essere di un particolare stato A otto dimensioni Entrava And be represented E veniva rappresentato In the interface matter that you're in Nella materia di Da interfaccia in cui voi mi trovate Also the ontological language Of that being and their civilization E anche il linguaggio ontologico Di quell'essere e della sua civiltà I came to meet myself Quindi arrivai lì e incontrai me stesso And myself as an extratemporal self E me stesso come essere extratemporale Also in the Swiss Alps Anche nelle Alpi Svizzere In 1986 Nel 1986 Taught me Kabbalah Mi insegnò la Kabbalah But not Hebraic Kabbalah alone Non solo la Kabbalah ebraica The Kabbalah language behind all language Il linguaggio della Kabbalah Che sta dietro a tutti i linguaggi And I came to meet high initiates Of the order of the golden fleece E ho incontrato anche Degli alti iniziati Dell'ordine del bello d'oro Who knew exactly that secret language Che conoscevano esattamente Quel linguaggio segreto Over the years I came in contact With many different individuals Scientists, initiates, shamans Nel corso degli anni Sono entrato in contatto Con un sacco di personaggi Iniziati, fisici, sciamani E inclusi anche I gruppo di scienziati Di Fulcanelli Fulcanelli è un maestro alchimista Che ascrisse Il mistero delle cattedrali E quella che era La pre-CIA Ha fatto di tutto Per catturare La OSS La OSS Perché aveva la formula Per la bomba nucleare Prima che fosse resa pubblica Lui aveva preoccupazioni Che questo avrebbe creato Dei grossi problemi all'umanità Quindi tutte le volte Che l'OSS lo metteva in un angolo Lui svaniva Cioè si curvava Fulcanelli Fulcanelli era diventato Ultraterrestri E il gruppo di scienziati Di Fulcanelli Sono in interfaccia Con diverse cività Ultraterrestri Incluso la base Che c'è in Sud America Nel Mato Grosso E uno di questi scienziati Pedro Lombrakis Mi contattò E mi dice Sappiamo della tua esperienza Con gli Emanuele Noi siamo in un incontro Stiamo incontrando adesso gli Emanuele Conoscendo le diverse intelligenze UFO E' da tempo che noi ci interfacciamo Ma nel 1995 Gli Emanuele giunsero nelle loro navi holografiche autogenerate Queste sono navi sintetizzate Che praticamente sintetizzano la realtà La editano Quindi mi fu offerto di unirmi a questa società segreta E fu disposto che nel giro di un anno Avrei avuto la mia laurea su un soggetto Su un argomento a mia scelta Ma gli ho detto Non posso Noi non apparteniamo a nessuna società segreta su questo pianeta L'operazione unità di Emanuele Deve essere aperta a tutti Perché ciascun individuo È il primo a essere il supremo iniziato Il cosiddetto percorso a 33 del buddhismo L'Athi Yuga o Yoga Dell'arcano interiore Di Sokchen È il più grande mistero del buddhismo Vajrayana Ma è questa sfera oppubbliche La sfera ultraterrestre Che è l'unificazione di tutti gli opposti del corpo Grazie a una alchimia simbiotica Con il tutto unità Con il fondamento dell'universo che è il tutto unità Quindi l'operazione unità di Emanuele Ha creato dei mondi di design come il pianeta Terra e molti altri pianeti Dove siamo circondati dall'illusione Ma l'illusione è anche il tesoro sepolto C'è dell'oro lì Tuttavia loro pare essere sepolto Quindi c'è una bugia su ogni imposto A ogni livello la bugia o la menzogna è diversa Questo è un bel gioco di parole che non so se riuscirò a tradurre Perché non ci si può affidare o giacere su una bugia Perché sennò uno si addormenta Tutta la nostra fisica moderna Si basa sull'ontologia aristotelica L'ontologia è una branca della metafisica Che a vedere con la scienza dell'essere L'essere che esamina se stesso E nell'esaminare se stesso Quantifica o descrive diversi elementi dell'essere Like hot and cold Day and night The elements The binaries etc Le cose binarie etc Questo è un essere che osserva E qui l'esperimento fino a oggi Non è mai riuscito a rimuovere l'essere dall'esperimento L'essere non è ancora stato definito in fisica Except by the greatest scientist of all Who is Italian He is your hero Absolutely Tranne il grande scienziato che è un vostro eroe E italiano è il vostro eroe He is the combination of Einstein Of Tesla Of all the great scientists There's a war on his physics But his physics reverses radioactivity C'è una guerra sulla sua fisica Ma la sua fisica inverte la radioattività It demonstrates objectively for the first time Dimostra oggettivamente per la prima volta Living state Which quarter mechanics cannot do Lo stato vivente Che non è stata La meccanica dei quanti Non è stata in grado di dimostrare With the hadronic mechanics Of the Italian maverick Ruggero Santilli Con la meccanica hadronica Dell'indipendente scienziato italiano Ruggero Maria Santilli The first evidence of who we are Begins to emerge La prima prova Di chi noi veramente siamo Incomincia a emergere I have to get on with my slideshow And I will get a bit to Santilli Adesso vado avanti con le slide E poi arriverò a Santilli This is your guide It's from your country Questo è il vostro scienziato Quanto mechanics It's 1934 physics It's old Really old La meccanica dei quanti ragazzi È vecchissima È degli anni trenta It can only describe single potentials Può descrivere solo i potenziali single Like in metals and crystals Solo come nei metalli Nei cristalli In no way can it model Living animate life Non riesci in alcun modo A fare dei modelli Della vita vivente That's impossible Con la meccanica dei quanti È impossibile con la meccanica dei quanti È impossibile con la meccanica dei quanti Really old So much for the new physics Vecchissima Super vecchia Hydronic physics Is the first physics That shows the living body La fisica andronica È la prima fisica Che mostra il corpo vivente In the biological sciences E nelle scienze biologiche And the only way That an animate life form Can exist È l'unico modo In cui una forma animata Può esistere And be topologically modeled Ed essere topologicamente modeled Is in six dimensions of time È in sei dimensioni temporali The new isotopic plane of Dr. Santilli The interdimensional plane of Santilli Il nuovo piano isotopico O piano interdimensionale Del dottor Santilli The new holographic plane The genotopic plane of Santilli Now an absolute evidential fact Il nuovo piano genotopico O holografico di Santilli Che è un uomo proprio È un fatto evidente But hated by the Vatican Of the science religion Nature magazine Però è odiato dal Vaticano Delle scienze Che è la linguista science The sciences out there Are religions Le scienze che ci sono là fuori Sono religioni They are peach sectarian cults Ognuna di esse Sono un culto settario A Dr. Stan Johansson From Trondheim University A colleague of mine Allora un collega mio Che è Stan Johansson Della Trondheim University Has demonstrated How the pioneers Of the different sciences Represent different secret societies Ha rappresentato Che i pionieri Delle diverse scienze Rappresentano Ognuna diverse Società segrete And just have made it More complex E hanno reso In tutto ancora più complesso But the objective meaning Has never been derived Ma non hanno mai derivato Quello che è il significato oggettivo Only the outer problem Male problem Of physics Solo il problema esterno Il problema maschile Della fisica Il problema interiore Il problema del mistero femminile Come la ionosfera Come la ionosfera Non è mai stato affrontato Né da Einstein Né dalla quantistica Né dalla stringhe Objectivity E la vera oggettività avviene Quando avete il maschile E il femminile Insieme In modo Che è quello che questo maverick Indipendente italiano Embodied it practically Lo ha incarnato praticamente Picks nuclear waste Lui prende Gli scarti nucleari Through a reactor That simulates lightning Li fa passare Attraverso un reattore Che simula il fulmine In the same principle As orgasm Con uno stesso principio Che ricorda l'orgasmo Lightning Is the orgasm Of planet Earth Il fulmine È l'orgasmo Del pianeta Terra Is the attraction Of the ionosphere To the crystalline surface Of the planet È l'attrazione dell'ionosfera Con la struttura cristallina Del pianeta And creates a new matter E crea una nuova materia Out of radioactive Or waste materials Of all kinds Dalla radioattività O da materiali di scarto Di qualsiasi tipo Called isosuperconductivity Questo processo Si chiama isosuperconductivity Superconductors Go beyond karma I superconduttori Vanno oltre il karma Because superconductors Have no resistance Perché i superconduttori Non hanno resistenza So they can't be held In the resistance Of a planet In a solar system That has a resistance In a galaxy Quindi non possono essere Tenuti in una resistenza Di un pianeta In un punto Do c'è una resistenza Con la galassia A superconductor Travels all paths Of least resistance Il superconduttore Viaggia per tutti i percorsi Di minor resistenza Past, present, future Passati, presenti e futuri Questo è stato scoperto Essere il vero codice Del DNA Il modo in cui ci hanno fatto Vedere il DNA È una menzogna È parzialmente vero A true allucinazione Una vera allucinazione So Francis Crick Took 100 micrograms Of LSD Francis Crick Ha preso 100 grammi Milligrammi di LSD And tuned in to the DNA Si è sintonizzato nel DNA And uncovered The helical structure E ha scoperto Quella che è la struttura Enicoidale However the Centilli revolution Of hypergenetics Tuttavia la rivoluzione Di Centilli Dell'ipergenetica Shows that The living genetic code Of our biology Mostra che il codice Vivente genetico Della nostra biologia Is operating In a past Present and future Continua Opera in un Continuum Passato presente Futuro That cannot be Reduced to 3D Che non può Essere ridotto All'altridimensione If it's dead Like a crystal Metal Yes of course Se è morto Come un cristallo Come un metallo Certo che può But not if it's Animato Come il prossimo 3Dimensionality Is an illusion It's a dream Quindi la tridimensione È un'illusione È un sogno It's a guiding manual For the shamanic Apotheosis Of our ontological Gnosis È un manuale guida Per l'apoteosi Ontologica Sciamanica Della nostra Gnosis Ma sto andando Troppo avanti Abbiamo più di 128 Testimoni Della manifestazione Fisica Di questi veicoli Ultraterrestri Abbiamo anche addestrato Delle persone A renderli capaci Di chiamarli Da soli Con un gruppo italiano Incluso Che è capitanato Da una psicologa Che si chiama Dottoressa Cossu E li riescono A chiamarli A vederli Pino a 10 metri Di distanza Le navi Le astronavi Rispondono Direttamente Alla coscienza Ma non Una cosa del tipo Cosa devo mangiare O bere O devo prendermi un caffè Deve essere Una cosa coerente An attentive Conscienza Attenta Coerente Incarnata nel cuore In amore compassionevole Dove la forza di volontà E il cuore Sono una cosa sola A quel punto Gli UFO rispondono Pulsate tre volte E loro rispondono Pulsando tre volte Voi proiettate verso di essi E lui comincia a saltare Ma nell'89 Ma nell'89 I went with someone else I've been numerous times inside Io sono stato diverse volte all'interno Ci sono andato con un'altra persona So in 1989 I brought someone else Deona Ferguson Ecco Nel 89 Sono andato con questa persona So I was living in this part of England Vivevo in questa parte dell'Inghilterra Walking with her With the dogs E stavo camminando con lei Accompagnando i cani To a field I often did my work with In un campo dove spesso Andavo a fare i miei lavori And started talking about the UFOs And how it's easy To summon the UFOs E incominciai a dire Quanto è facile Parla degli UFO E quanto è facile chiamarli And she was interested E lei fu interessata And so we did E quindi richiamamo And so a vehicle Switches on Moves along Un veicolo si accende Arriva Si avvicina Fai flash di pulsazione Turns to another direction Gira in un'altra direzione Another vehicle appears Un altro veicolo compare It comes towards us Viene verso di noi Jumps out Salta fuori Si rimanifesta Comes towards us Viene verso di noi Comes closer and closer Si avvicina sempre di più At this point She's undergoing A shamanic experience A quel punto Lei sta attraversando Un'esperienza shamanica She feels her psyche Or soul opening Sente la sua anima O la sua psiche Che si apre Remembering from the core Of her being E ricorda dal centro Dal nucleo del suo essere And the closer it comes to us The more out of focus It goes Più si avvicina a noi Più diventa sfocalizzato Like a lens Going out of focus Come una lente Che si sfocalizza The closer The more out of focus Quindi più si avvicina Più si sfocalizza And we pass through a membrane Oltre passiamo una membrana Or inside a vehicle Entriamo nel veicolo We can still see Vaguely Through the ship Possiamo ancora vagamente Vedere attraverso l'astronave The outside Countryside Il paesaggio Che si sfocalizza fuori But it starts to go Into focus Ma incomincia ad entrare In focus And it becomes denser And denser Ma diventa sempre più denso The ship is alive L'astronave è viva It's a living substance È una sostanza vivente It has an atmosphere An atmosphere An atmosphere That is intelligent Un'atmosfera che è intelligente And then there are beings E poi ci sono degli esseri Now Fiona a quel punto si sfaventa She had the soul experience But now suddenly these beings Allora ha avuto l'esperienza Però improvvisamente Ci sono questi esseri Their bodies were releasing energy That was formulating The ship itself Allora l'energia di questi esseri Era lei stessa Formulare l'astronave So it was like We were walking in their lungs You could say È come se noi stessimo camminando Nei loro colmoni Their atmosphere The living atmosphere Nella loro atmosfera vivente And her reptile brain Switches on And she's petrified Quindi il cervello rettile suo Della ragazza Di esseri Sergente Che si chiama E dice No non ce la faccio Ananda Non reggo And they're becoming More and more physical E loro diventano Sempre più fisici E a questo punto Non riusciamo più A vedere fuori And so I have to go Into my language of being And tell them to stop Quindi sono entrato Nel mio linguaggio dell'essere Ho dovuto dirgli Di fermarsi Perché loro non conoscono Il cervello rettileo Of flight and fright Di questo spavento Scappa o attacca They just had the experience Loro hanno solo L'esperienza Of her soul opening Della sua anima Che si stava aprendo So in the language of being I stopped them Quindi con il linguaggio Dell'essere lì fermai And I guided Fiona To a side of the ship Portai Fiona L'accompagnare A un lato dell'astronave We passed through The membrane And we were at least 200 meters away From where we went in E eravamo a 200 metri Da dove eravamo entrate The ship wasn't that big La nave non era But time and space Had walked by the ship Ma intorno all'astronave Il tempo e lo spazio Si erano curvati These ships then Can go into metal Into crystal Into plasma Into all kinds of forms Queste navi Possono diventare Di qualunque forma Metallo Plasma Cristallo Possono apprendere Dei profondi Procedimenti inconsci And make them physical E renderli fisici If they have to be Resolved Se devono essere risolti Through a spiritual crisis Attraverso la crisi spirituale Which was the contribution Of Dr. Stanislav Graf E questo è stato il contributo Del Dr. Stanislav Graf The founder of the new psychology Transpersonal psychology Che è il fondatore Della nuova psicologia Che è quella francese Applied in UFO experience cases Applicata ai casi Di rapporti con il UFO By Harvard doctor John Mack John Mack Il professore di Harvard Who helped people With experiences Che aveva aiutato Persone che aveva avuto esperienza To realize The spiritual aspect A realizzare Quello che era L'aspetto spirituale Not through hypnosis Non attraverso l'ipnosi But through Transpersonal process Attraverso un processo Transpersonale Meditation Meditazione And as a result Embrace the spiritual Crisis Like in a Let's say Ayahuasca session E come risultato Abbracciare la crisi spirituale Diciamo così Come durante Un'esperienza Con l'ayahuasca Dove il paesaggio Dove il paesaggio Dell'inconscio E del subconscio Diventa vito Dragons Insectoids Animaloids Budas Light body beings Insettoidi Draghi Esseri Buddici Esseri Lumiosi Angeli Tutte forme Che si rimano in Metamorfosi Nel momento in cui La persona Abbraccia la crisi Spirituale And had the next UFO experience E si ha la Successiva Esperienza UFO Che non è solo Shamanic Che è oltre L'ayahuasca Entra nel fisico Aggiusta Adatta La fisicalità Però Gli stessi esseri A quel punto Prendono una forma La nave E gli esseri Erano cambiati A seconda Della loro Trasformazione And as they Continued Ninety patients To work with Dr. John Mack This way E quando questi Novanta pazienti Continuarono a lavorare In questo modo Col Dr. John Mack In the end What have been Little grey beings Alla fine Quello che erano Questi piccoli Esseri grigi Metamorphosized Into Humanoids Outlines Of light In questi Humanoidi In questi Corsici Profili And into Halls of light E in spere Luminose That joined A nexus Of light Che si univano A dei nessi Di luce Di diverse specie And this is The actual Contexts That are taking place Questi sono I contesti Reali Che stanno Chiarando There is also Something else Taking place Però c'è anche Qualcos'altro Which comes out Of the CIA MK Ultra Project Che viene fuori Dalla CIA E dal progetto MK1 And psychological Operations E operazioni Psicologiche Carried out By agents Like Dr. David Jacobson Bud Hopkins Who is a known CIA agent Che vengono Portate avanti Da questi agenti Della CIA Dr. Hopkins And Hopkins is not A doctor No Dr. David Jacobs Bud Hopkins Is a CIA agent Bud Hopkins È un agente Della CIA Writer E lo scrittore Del libro Missing Time Il tempo che manca Quindi una squadra Di questi agenti Prende delle persone Che hanno avuto Delle vere esperienze E poi le formula Con delle suggestioni Preipnotiche In una metamorfologia Postmoderna Di culto Degli UFO Ma questa è tutta Una storia Ma questa è tutta Una storia Tutte queste cose Comunque stanno Venendo rivelate Quindi le persone Che hanno sentito Un abuso In questo senso Viene rivelata La storia A 16 anni Abbiamo avuto Questa esperienza In cui uno Degli Emmanuel Salvana Emanuel Si era materializzato In forma fisica Questa è un'esperienza Che mi cambiò Proprio nel nucleo Profondo Per sempre Perché ogni parte Ogni parte Ogni memoria Che andavo in giro Con la mia All of that Was being seen As the divine Tutte queste cose Venivano viste Come il divino Non c'era eccezione Non c'era posto Dove nascolgersi Era tutto il divino Era proprio la verità La nuda verità Che non c'era Senza illusione La cui aggrapparsi Tutto E ci fu solo Un livello Fino a cui Riuscì a tollerare Gli ultraterrestri Hanno diverse interfacce Per aiutarci a realizzare Chi loro sono E chi noi siamo Perché loro sono noi E noi siamo loro E abbiamo progettato Questo pianeta insieme Per questo particolare ciclo O cicli adesso Molti veli dell'illusione Continueranno a dispiegarsi Se c'è la Hillary Clinton Ad esempio Allora ci sarà Un programma In quel senso Con rivelazioni Sugli extraterrestri Ma questo va Molto oltre Gli extraterrestri Ma è assolutamente real È assolutamente reale È più reale È più reale Del reale E sta entrando in interfaccia Con sempre più persone Su questo pianeta E noi ci uniremo In sinergia Attraverso concerti globali Che usano la musica Dell'universo E la musica Della co-creatività Per collegare Per collegare Amplificare E armonizzare Le armoniche Proprio dei nostri corpi E delle nostre coscienze C'è il senso La droga Rock and roll And the UFO Elvis Presley Era un contattista Suo padre Che quando nacque C'era una sfera blu Sopra la casa Elvis gave Numerose interviste In cui citava I suoi contatti Durante la sua vita Il re del rock And his bodyguard Quando there was A UFO landing In the desert Falling unconscious E sullo sguardo del corpo Quando un'astronave Atterrò nel deserto Andò inconscio Lui sapeva che La sua missione in musica Veniva da questa Intelligenza Interimensionale Da questa sfera blu These are documented Testimonials From Elvis And his father And many close associates Ci sono delle testimoniali Documentate Di Elvis Di suo padre E di altri It's the same With the Beatles Lo stesso bar John Lennon Had a lucid dream Ebbe un sogno lucido Of a UFO Di un UFO The UFO Was a pie In the sky L'UFO Era una torta Nel cielo Which became a beetle Scarab Out of the scarab Came a bean Dallo scarab Provenne un raggio And a spaceman E un uomo spaziale He said You are the Beatles Che disse Voi siete i Beatles So rock and roll Was founded by the UFO Quindi Il rock and roll Fu fondato dagli UFO We could go for Three hours Giving the examples Of the famous rock stars Rock music Modern music Is meant As an interface For contact It was designed That way But it's all About consciousness Free consciousness Co-creative consciousness Inspirative consciousness Satient consciousness Not being taken over Che non viene conquistato Into a deeper dream E portata in un sogno That's no longer possible Questo non è più possibile Andiamo avanti We've had seven plus Landings with witnesses Abbiamo avuto più di sette Atterraggi con Testimonie Many thousands Of close approaches Of the vehicles Molte migliaia Di incontri Ravvicinati Con veicoli Football fields Sized Motherships Over our house Astronomi madre Grosse Come dei campi Da calcio Sopra la nostra casa I've been inside And out Various forms Of the UFO There are different Types of modulations Ci sono veramente Diverse forme E modulazioni Di UFO Face to face Meetings Incontri faccia a faccia In what would be More classically Archetypally Extraterrestrial We call it Extratemporal In quello che viene Normalmente chiamato Extraterrestre Noi lo chiamiamo Invece Extratemporale These are civilizations That have become Ultraterrestrial That can only Present Two percent Of themselves Without Glilling out On other systems Extraordinarily Vivid experiences Sono delle esperienze Estremamente Nel fisico Cheating others To summon the UFOs Poi anche Aver insegnato Agli altri A chiamare gli UFOs Being modulated Into other spaces Or dimensions Essere modulato In altri spazi O dimensioni Before 3 2 Hertz Omega music revolution Was actually founded By something That happened In Ganymede Allora La rivoluzione Omega musicale La 1432 È stata veramente Scatenata Da qualcosa Che è successo Su Ganymede I was going there During the 80's Negli anni 80 Andavo lì But in 1998 An Italian Ma nel 98 Un italiano Italiana Vincenzo Bianco Vincenzo Bianco Had a car accident In Berlin Ebbe un incidente D'auto A Berlino He hit the opposite Side of the head That I did E colpì La parte L'altra parte Non Quella che abbiamo colpì Dopodiché Lui era a letto E si proiettò Su Ganymede Lui non sapeva La mia esperienza Però mi ha descritto La base Come l'avevo vista io E gli esseri Mi dissero Hai un appuntamento Col comandante Ananda Non sono molto d'accordo Sul termine Comandante Magari capitano Ma non Quindi mi incontrò In una forma Ultraterrestre Diciamo così Con cui sono familiare Ma che credo Anche essere Un'interfaccia Grafica Every level Of the contact Experience Is a graphic Interface Like Windows Or the OSX Of Macintosh Ogni livello Dei contatti È un'interfaccia Grafica Come il Windows Le finestre Di ci sono Su Macintosh È un'interfaccia Con qualcosa Che è molto difficile Comprendere Ma che è Il fondamento Dell'essere Quindi Vincenzo Si incontra Con il comandante Ananda E gli dico Tu devi fare Qualcosa Con Ananda Che c'è Sul pianeta To make The new music Per fare La nuova musica The music Of contact La music Del contatto And the music Of life La music Della vita And so He came back Quindi lui Ritornò He heard about me Giving a lecture In Berlin Sentì che stavo Facendo un seminario Berlino Came only on the Friday night Arrivò al venerdì sera In 1998 Nel 98 And I was speaking About my experiences In Ganymede E stavo parlando Delle mie esperienze Su Ganymede And he was on the front row Lui era in prima fila And I saw his jaw drop E ho visto che gli è cascata Alla mandibola Quando gli ho detto questo Quindi lui ha fatto sì Che avessimo un incontro And I said yeah Well that's the 432 hertz music tuning We're working with With 8 hertz E gli ho detto sì Questa è la musica a 432 hertz Con gli 8 hertz He became DJ Enki Lui diventò DJ Enki And we made the first electronic music At 432 hertz With 8 hertz And 144 hertz E insieme facciamo La prima musica a 432 hertz E tutti i suoi multipli E elettronica Che è uno dei mezzi di linguaggio Che unisce tutti i linguaggi E la musica Il linguaggio è la musica dell'universo C'è l'idrogeno Ha una risonanza a 8 hertz E compone il 98% dell'universo E gli atomi di idrogeno Compongono tantissimo del nostro corpo E il 8 cycles per second E la praticamente Il rilascio di Elio È a 8 cicli al secondo È come il DNA figlia continuamente Quindi gli 8 hertz Sono praticamente Il linguaggio della musica E della nota Corrispondono alla nota Do Ma questa è un'altra storia Quindi l'educazione In queste altre lune e pianeti Attraverso altri individui Portò i suoi frutti E il saint 40 Sperimentiamo un'altra forma Di corpo di luce Con quattro facce Essere giovane e vecchia Ma invisibile In un certo periodo di tempo Alle persone che erano nelle vicine Fu molto difficile Ritornare in un corpo singolo Quando ritornai dallo spazio Ero consapevole della stanza In cui quella gente in Danimarca Stava conversando Però dovevo agganciarmi A un set di braccia A un torace Alla fine fui in grado Di portare le memorie D'infanzia E agganciarmi Aprire gli occhi Tutto è psichedelico E in quei giorni Non bevevo né vino Né caffè E poi le facce che c'erano Nella stanza Si volta verso di me Ma come hai fatto A entrare in stanza Io ho detto Ma erano le due ore Che sono qualche medito No, no That's not possible That wasn't Come sei arrivato lì Quindi so che mi ero stato portato E in questo senso Ho esperienze così Con testimoni L'intelligenza ultra terrestre Vede le particelle sumatomiche Come un orizzonte digitale Come una camera digitale E quindi istantaneamente Ridigitalizza A livello di particelle subatomiche Il bio-hologramma vivente Perché noi siamo la somma Di tutti i possibili Ologrammi biologici Che sono stati esplorati Dagli ultraterrestri Nel passato, presente e futuro La loro tecnologia è oltre La loro tecnologia è oltre Ma ci sono molte interfacce Ci sono molte interfacce Ci sono degli altri contattisti come Carlos Diaz Che hanno avuto delle altre esperienze con uso di plasma Ci sono fotografie di noi con delle pulsazioni luminose di corpo di luce Oppure queste fiamme rotanti che sono queste lettere ebraiche o tibetane che ruotano sulla nostra testa Qui a 17 anni Quando avevamo i contatti La prima volta che fu in Italia ero a Busto Arsizio Sono stato invitato a parlare a un congresso con 600 dottori C'era anche un altro signore importante What's his name again? Il Maggiore Robert Dean della Nato parlava con noi Però gli è venuto un attacco cardiaco e doveva andare all'ospedale Quindi ci vennero dato due ore di tempo per favore E noi mostramo le nostre animazioni Non di tre dimensionale ma di inter-dimensional geometria Non di 40 o 3D ma di in-between Quindi era una geometria interdimensionale Non è né tridimensionale né quadridimensionale ma è l'in mezzo Che era praticamente il nostro modello della nostra traslazione Che avevamo subito grazie a questa intelligenza ultraterrestre E rivelai un sacco di informazioni E a quel punto le luci sparirono Cioè il speso di luci Continuai a parlare al buio perché facevo già le darkroom all'epoca E le persone dissero che stavo brillando di una luce verde Quindi poterano vedere Nessuno si alzò Le luci rimasero spente per almeno 5 minuti E questi sono alcuni degli esempi La realtà non è quello che chiamiamo Il modo in cui le informazioni venivano trasmette Nel 1986 uscivo fuori e chiamavo gli UFO Che noi abbiamo definito Unified Field Object Sono dei veicoli eterici oggetti di campo unificato Del lettere che è la forza adronica Del lettere che è la forza adronica Non è una fusione caldo-fredda ma a temperatura corporea Ed è da lì che vengono gli ultraterrestri Da densità atomiche più grandi E c'è tutta una storia a questo riguardo Quindi noi stavamo sotto uno di questi oggetti Un raggio prende il nostro corpo Un piccolo veicolo passa vicino E uno fa una sintonizzazione del corpo Entro in casa I miei cinque sensi si fondevano Nella sinestesia Diventavano un super senso Dove uno diventa l'intero corpo E venite praticamente illuminati E da lì emerge l'informazione vivente Oppure viaggiavamo attraverso il raggio nelle realtà virtuali Come ad esempio Ganymede che era la luna di Giove Ecco, cominciò, incominciò Spesso durante le comunicazioni la gente vede una curvatura dello spazio Non si facevano domande perché le domande ricevano subito la sposta I volte il viso cambiava Nel 90 tutto questo cessò Questo è il periodo dell'allattamento al seno degli Emmanuel Per così dire, era finito Dopodiché avevi cominciato ad avere i miei insegnatori Guida Che si descrivevano come intelligenze extratemporali Venivano dal lontano futuro Da Andromeda e dal nostro sistema galattico In un'onda a tempo inverso Sono riuscito alcune volte a filmarli anche degli atterraggi Questo nel luglio del 2008 Dopo aver ricevuto le 432,000 razze di umanoidi dei Rig Veda Che hanno a che vedere con il nostro futuro E con il come queste diverse intelligenze si stanno unendo a noi E come esse siano anche connesse con i nostri motoneuroni We are in contact now with more than 128 witnesses Over 31 years of consciously instigated to contact Allora noi praticamente siamo in contatto con più di 128 testimoni Nel corso di 324 anni di comunicazione Contatto trasformazione Questo nel 98 durante la grande comunicazione galattica in Norvegia I don't drive a car But at that time people were seeing me in a car Allora io non guido un'auto Però la gente all'epoca mi vedeva in macchina In questa regione della Norvegia Slowing down this sleek black sports car Rallentare in questa macchina sportiva nera elegante With a lightning bolt Con una fulmine Black with an outline Cioè sulla macchina c'era questo fulmine nero con un contatto The two girls, Christina Holton and Sophia, the friend C'erano due ragazze, Christina e Sophia, la sua amica Were studying our biofeedback protocols Of unifying all 8 poles at 8 cycles per seconda Stavano studiando il nostro protocollo di biofeedback Dell'unificazione degli 8 posti attraverso gli 8 hertz Il veicolo ultraterrestri e personale Che usa gli 8 hertz del cuore, gli 8 hertz della vita, della forza nucleare E gli 8 hertz della mente Attraverso dei sistemi di biofeedback di coerenza Che unificano tutti e 8 gli opposti del corpo Nel oggetto del campo unificato Loro stavano camminando su questa strada di montagna Nel sole e gli si avvicina un'auto Went to their side of the road And there I was E c'ero io dentro Long hair Lunghi capelli Sunglasses Il sorriso tipico all'Ananda Il sorriso tipico all'Ananda Va addirittura in tre occasioni con questo Va addirittura in tre occasioni con questo Ecco perchè l'esercito è così interessato a questa cosa Immaginatevi che cosa può fare l'esercito se riesce a trilocalizzare o aiperlocalizzare i suoi soldati Questa è un'altra storia Questi esseri operano in molte cellule di spazio e tempo E molte volte mi ricordo di essere stato in queste diverse manifestazioni di me stesso Non in questa occasione Posso immaginare che ero io però non mi ricordo di essere stato Quando incontrai Kudai a Berlino nel 1996 Una donna mia si avvicinò Che conoscevamo dai nostri seminari in Svizzera E ci aveva incontrati a Vienna Non ero mai stato a Vienna E mi ci volerò tre anni prima di andare a Vienna Lei disse che mi aveva fermato della folla Ci eravamo dato un abbraccio bello da New Age Che era real E mi chiese quando è il prossimo seminario E le dissi il giorno e la data Ma non ero lì Ma questo mi ricordo, era come un sogno, lo ricordo Quindi ci sono tanti casi di questo genere Questo trascende la realtà per come noi la conosciamo L'UFO ci lega all'ipertempo che noi di fatto siamo Ho filmato questa astronave madre davanti a casa nostra Quando ero in comunicazione con Stephen Bassett Che era famoso proprio per fare la hearing Era proprio dei rivadui sulla rivelazione del suo guido Ero in un pessimo umore perché diversi ricercatori UFO erano morti Ma tuttavia filmate Ma tuttavia filmate Alcuni sono piuttosto spaventose Alcuni sono piuttosto spaventose Si riferiscono ai mondi sotterranei Ai talas Che diventarono poi parte dei rappimenti alieni secondo Hopkins e John Carpenter E molti altri Io gli dissi Niente grigi Non erano veramente dei grigi Noi li chiamavamo i tecnici È un formato corporeo Che lavora con le cose tecniche La sintonizzazione dei pianeti, delle astronave Dei semi della vita E io a quel punto dissi No, non voglio quelli E stavo raccontando a un contattista danese delle mie scoperte E quello che veniva fuori dall'esercito Su questo contatto negativo segreto con gli alieni Che è dimostrato che è un falso Ma all'epoca non lo sapevo E non conoscevo l'aspetto ultraterrestre Che a volte può innescare quello che è il nostro subconscio oscuro I nostri archetipi di radici che devono essere elaborati e portati alla luce della coscienza E a quel punto sentii una botta alla finestra Era uno di questi tecnici Era uno di questi tecnici Che era caduto e non era riuscito a oltrepassare la finestra come di solito Perché avevo messo un blocco lì Marina Corshom was very upset about this E Marina Corshom era molto... Went to the window and looked Of course it was dematerialized Questa persona con cui parlavo Andata spesso a guardare E ovviamente l'essere si era smaterializzato Then I went to create a press conference in Copenhagen in January of 1991 Nel 91 feci creare una conferenza stampa a Copenhagen With 70 plus journalists Con più di 70 giornalisti With the subject JFK in the European presence Allora, con il soggetto JFK e la presenza aliena Perché avevamo un sacco di materiale a riguardo It was a very successful press conference Una conferenza stampa molto di successo Great press coverage, I was on the 9 o'clock news Ero sul notiziario delle nove Mi hanno proprio diffuso This was ten years before the disclosure project E dieci anni prima del processo di rivelazione But during the night when I was writing my notes Of the alien presence Però di notte, mentre stavo scrivendo le mie note sulla presenza aliena I was in the deepest point of sleep Ero in un profondo punto di sogno And I knew they were coming And I opened my eyes The blue beam was coming through the window E sapevo che stavano arrivando Apri gli occhi e vidi il raggio blu passare dalla finestra And the technicians were manifesting E i tecnici si stavano manifestando My primordial self came in Il mio semprimordiale entrò And said Shama Ghanamana E disse questa frase And they went like this and dematerialized E hanno tremato e se ne andarono I told my girlfriend Mariana Please write down what I said Because I won't remember it Dissi alla mia ragazza all'epoca Mariana Scrivi quello che ho detto perché non me lo ricorderò 10 anni dopo Mentre ricercavo il toxins I found it to be a mantra scoprì che c'era un mantra di dissipazione degli ighighi per entrare nei mondi sotterranei ecco, quindi questo serviva proprio a rimandare a questi esseri nei mondi sotterranei perché non si fanno entrare a meno che non ci sia un nolismo completo di tutti gli aspetti se qualcosa non è assiomatico rispetto a tutti questi aspetti lì occorre lavorare per una più grande coerenza, per una più grande coerenza logistica del sé gli oggetti di campo di unico ci incontrano a metà strada, non vengono a salvarci noi stiamo subendo una biogenesi che è vista negli studi al microscopio sono studi top secret sul materiale genetico di cui noi abbiamo delle copie quindi qua c'è questo suono che ha 400 battiti al minuto o 8 hertz 432 che è il picco del cuore nel momento in cui sperimenta amore questo è il suono la nostra musica usa 8 hertz sempre il cuore nel momento dell'amore ha 72 battiti al minuto che è la frustazione circadiana che è quello che sintonizza tutti gli organi in un tempo unico a essere una sinfonia in accordo l'uno con l'altro in un concerto quindi 72 battiti al minuto o il suo doppio 144 battiti al minuto è un importante fattore della rivoluzione musicale Omega 8 hertz hanno guarito 27 più malattie organiche in studi a tritto cieco e nella manifestazione degli UFO in luoghi come Estala in Norvegia dove degli scienziati italiani il gruppo SETI e il gruppo IRA avevano disposto della strumentazione per, come si dice, captare delle anomalie prima che l'UFO compaia ci sono gli 8 hertz dopo di che l'UFO prende e diventa plasma diventa solido l'analisi spettorale mostra che diventa metallo lo scandio, che è un elemento raro e a 30.000 km all'ora fa una svolta a 180 gradi che è aereonauticamente parlando impossibile però è stato filmato ed è su strumenti the scientists pulse a laser at it 3 times allora, dei pulsano un laser a 8 hertz it pulses back 3 times allora, se pulsate un laser loro loro vi pulsano indietro 3 volte 3 volte 3 volte se gli scienziati pulsano con un laser fisico ancora più convincente sarebbe il laser del tuo cuore in coscienza siamo entrati nell'età del dialogo che diventa una sfaccettatura artistica dell'umanità dialogare con gli UFO che rispondono a degli stati creativi di coscienza e di sensazione, di emozione la massima creatività nel cervello da 8 cicli al secondo e praticamente in tutte le cellule cerebrali diventa un pensiero senza sforzo il cuore in uno stato di amore compassionevole che è l'unico modo in cui si può cambiare il DNA ed è stato dimostrato in 24 anni di popolo va in picco a 8 hertz quindi gli ultraterrestri ci incontrano a metastrada nella nostra biogenesi il cancro e la fibrosi sono presenti dappino sul pianeta non si tratta solo di radiazioni nucleari noi adesso abbiamo la soluzione italiana per gestire gli scarti radioattivi che ci darà un'energia infinita che possiamo iniettare nelle nostre macchine come gas ma questa è ancora un'altra storia il nostro DNA viene attivato i retrotransposoni saltano e avete bisogno di stati coerenti stati di meditazione e stati sciamanici per integrare questo DNA che salta il Dr. Holm Keller che era un ricercatore sul cancro sulle triplice eliche del cancro scoprì che le persone che avevano avuto degli incontri ravvicinati con gli UFO esperienze di premorte anni di meditazione religiosi o spirituali tantric yoga states o ecstases alcuni dei campioni di queste persone mostravano un DNA che salta ovvero che produceva dei cambiamenti universali nel loro corpo e i retrotransposoni che coprono tutti i tipi genetici dalla pelle agli organi all'osso sono un gruppo di tre of signs and lines of signs and lines human endogenous retrovirus signs and lines allora c'è il retrovirus umano endogenous signs and lines in human timeless tissue si trovano tutti nel tessuto del timo it is the timeless gland that rings like a bell è la ghiandola del timo che suona come una campana rispetto al cuore che prova amore studies have shown that only consciousness with compassionate love gli studi hanno mostrato che la solo una coscienza in amore e compassion può avvolgere e svolgere il DNA producendo tre risultati allo stesso tempo 24 anni di studi fatti dal HeartMath Institute quindi finalmente noi abbiamo un libero arbitrio genetico grazie alla scienza dell'amore compassionevole che ora è disponibile a essere scaricata tramite questo sistema che si chiama Inner Balance che può essere attrezzato su qualsiasi ampio mettete un elettrodo attaccato all'orecchio practice a breathing technique that brings you into an ecstasis you focus on love, compassionate love praticate questa forma di respirazione che viene intorno e vi viene aiutato da questo macchinario che vi fa entrare in questo amore compassionevole il battito cardiaco va a 72 battito cardiaco producing the golden proportion the shape of the DNA produce la proporzione aurea che è la forma del DNA peaking at 8 hertz, 8 cycles per seconda the pilot will then focus on DNA even half a mile away and instantly produce an uncoiling or coiling of the DNA sample the same people or other people not in a compassionate state that you've seen on the computer or iPad la stessa persona o altre persone che non sono in quello stato compassionate who also try to change the DNA consciously che cercano con coscienza di cambiare il DNA non hanno alcun effetto so we are in the age of genetic free will quindi siamo nell'epoca del libero arbitrio genetico having been stumbling and fumbling the darkness genetic uncertainty dopo essere stati lì a inciampare nell'incertezza genetica nel buio dell'incertezza genetica and this is objective questa è una cosa oggettiva you can measure directly you can see that you're producing this coherence perché si può misurare direttamente si può vedere che si produce questa coerenza that is the true humanity quella è la vera umanità that is satience quella è la senzienza the anthropos or anthropic impulse l'antropos l'impulso antropico the observer orientated universe l'universo orientato dall'ossermatore where the existential human consciousness where the horse of compassion redesigns the DNA objectively that's when the ultra-terrestrials join us midway those are the protocols of contact quelli sono i protocolli di contatto and this is what continues now in the age of dialogue e questo è quello che andrà avanti nell'età del dialogo we have DJs who've learned dialoguing abbiamo dei DJ che hanno imparato a dialogare who use 432 hertz and 8 hertz che usano i 432 hertz who go to psychedelic trance parties the biggest music cultural movement of history che vanno a questi arti questi festival trans psichedelici like a boom festival and the UFOs immediately appear in the future we'll be dancing the harmonics of the heart in our music in our bodies together with the species with the UFOs e di futuro noi danzeremo le armoniche della nostra vicenza del nostro corpo con la nostra specie e con le specie che ci sono nell'universo senza perdere noi stessi al contrario riprendendo nuovamente noi stessi devo sedermi per accelerare perché stiamo appena grattando la superficie qua allora quest'anno c'è un processo molto importante in atto la testimonianza di 150 ufficiali militari che hanno operato missili nucleari fin dall'inizio dell'era nucleare testimoniano che gli UFO hanno disattivato i missili nucleari in tutto il mondo sia che fossero russi, inglesi o americani queste intelligenze ultraterrestri interagiscono con le nostre armi nucleari mandano giù un laser e dicono cos'è sta roba e sono stati lì fin da quando è stata creata la bomba nucleare questo è un passo molto importante della rivelazione questo è disponibile su Vimeo qualche settimana fa ho visto un'astronave di questo genere a livello degli alberi sopra gli alberi in Norvegia e alcuni mesi fa c'erano ancora di questi UFO che andavano nelle basi militari le nostre armi nucleari sono controllate perché i nuclei dell'atomo influenzano altre densità in altre dimensioni e quindi gli eterei come loro si chiamano come forma di ultraterrestri hanno creato contatto con degli ufficiali del governo già negli anni 50 ci sono delle sintetizzazioni massicce della realtà da parte del sole questo è il sole e ci sono queste flotte di veicoli che passano attraverso le macchie solari e non sono influenzate da queste emissioni era una meteora o un pianeta ecco se fosse una meteora o un pianeta verrebbe attirato al suo interno gli strutturi immediatamente passano sopra le macchie solari sono molto più grosse del pianeta Terra le abbiamo scoperte nel 1998 e ci fu detto di ritornare agli archivi della NASA del 1996 erano lì intorno al sole che facevano l'editing del sole e hanno dato un'estensione all'umanità una delle prime di queste stazioni solari nell'86 ne fu fotografato da un astronomo francese ed era lì da un po' questa è la fotografia con cui iniziai nel 1998 non c'erano pianeti lì né Saturno, né Marte, né Venere, né Mercurio l'abbiamo pubblicato un anno dopo una cospirazione del Sun Gate questo continua questi oggetti sono estremamente densi questi oggetti sono estremamente densi il dominio eterico è molto più denso e quindi va oltre i limiti della velocità dell'unione al momento noi siamo soltanto un'ombra della fisica il nostro intero sistema solare sta passando attraverso una fusione la densità del sistema solare è massivamente aumentata la densità del sistema solare sta massicciamente aumentata è visto su tutti i pianeti questo e ieri notte abbiamo deciso di buttare via tutta la serie di immagini per un'altra presentazione però tutto questo ci influenza si intensifica in modo drammatico come mai prima qui vedete una densità di veicolo che rilascia diversi raggi questi raggi sintonizzano il Sole sono delle stringhe di etere che costruiscono il nostro Sole e anche il nostro terreno che vengono accordati da questi accordatori musicali che sono molto più grandi del pianeta non sono extraterrestri non sono extraterrestri non sono extraterrestri sono ultratri sono sintetizzatori di realtà prendete tutte le risorse di questo pianeta attraverso la civiltà e per prima non potete produrre un singolo ship questo grande e per tutte le possibili risorse di questo pianeta non siete in grado di produrre una nave queste navi sono molte, molte più grandi e stanno rieditando il nostro Sole attraverso questi raggi tirando via le macchie solari dal nostro pianeta cambiando la calamità del 2012 come ha annunciato la NASA nel giro di solo 7 minuti come ha annunciato la NASA nel 2013 facendo 12 anni di risintonizzazione del Sole e del sistema solare la super emissione che è emersa dal Sole in giulio del 2012 se fosse stata diretta alla Terra ma avrebbe creato delle calamità massicce però ci sono tutte altre cose coinvolte queste navi sono enormi guardate questo punto nero sono enormi sopra una macchia solare molte volte più grande del pianeta Terra che accorda, armonizza la macchia solare è più grossa del pianeta Giove queste non sono pianeti sono delle intelligenze quindi la nostra intera realtà sta venendo riaccordata qui ce n'è una che è nascosta vicino al Sole è un veicolo a forma di ciambella vedete il buco nel centro che è un classico simbolo dello Stargate del portale stellare in tutte le culture antiche che non viene influenzato affatto dal vento solare da queste massicce quantità di energia e che rilascia questi raggi e che rilascia questi raggi allora come ci hanno detto siamo andati a ricercare nel 96 e abbiamo trovato questa cosa vicino al polo nord come c'era stato e questo stava risintonizzando il polo nord del Sole e quindi anche questo come si dice l'inversione dei poli come era stato detto ed è dal 96 che sta facendo questo pare che non fossero lì prima di allora non nel risintonizzare il polo nord del Sole e risintonizzare queste stringhe che portano il Sole le stringhe eteriche scalari che sintonizzano che accordano il nostro sistema solare come uno strumento musicale Allora c'è questo dottor Berggrant che è uno scienziato della NASA e della Lockheed dimostrato l'esistenza di un'astronave di 50.000 km 50.000 km di dimensione che costituiva gli anelli di Saturno Lui è un fisico del plasma e descrive queste come delle astronave di intelligenza e viventi Ho selezionato alcune centinaia delle immagini della NASA di questi veicoli che vanno da un chilometro 250 km a 50 km di dimensione Questi sono parte dei sintetizzatori della realtà parte dell'uomo originale da cui noi portiamo che costruiscono la realtà del nostro sistema solare per il lusso della nostra apoteosi nell'agnosi che noi abbiamo adesso Ecco qui fa vedere appunto queste delle astronavi della dimensione di chilometri Questi oggetti sono enormi Improvvisamente gli anelli di Saturno non ci sono e poi da un'astronave vengono fuori come se vengono generati dalla Solare e sono delle correnti ad anello superconductorie di cristalli cubici di cristalli cubici di eter perché a me sintetizzano tutte queste forme Queste si tiravano lungo gli anelli di Saturno e sono lunghe fino a 50.000 km L'analisi plasmica di più di cento di queste fotografie della NASA mostrano l'analisi mostrano che si comportano in modo vivo e intelligente Sono esseri viventi Noi stessi abbiamo un'astronave da decompattare dal nostro DNA Il nostro sistema solare è uno strumento musicale costruito nella geometria di 432 gradi costruito nella geometria di 432 gradi più o meno rispetto a 360 gradi o 72 gradi che è il rettangolo aureo quindi il sistema solare costruito nella musica del temperamento equabile come scoperto da Keplero e da Verdi avete la prima cascata della nota Do con Nettuno quindi la prima orbita circolare Nettuno sta facendo una trasformazione pazzesca ci sono delle massicce emanazioni e poi c'è il successivo pentagono all'interno è il pianeta Saturno che viene attivato anche lui dalla metà degli anni 90 se si fa un pentagramma nell'orbita di Saturno avete la cintura degli asteroidi predetta da Keplero fate ancora un pentagramma all'interno e avete il ciclo della Terra questo è il costrutto artificiale della nostra realtà che sta venendo ricalibrato e riaccordato dagli ultraterrestri che sono fuori e dagli ultraterrestri che sono dentro è la musica genetica della compassione degli otto hertz del cuore il polo sul di Nettuno mentre diventa sempre più luminoso più luminoso del 65% di quanto lo era nel 1995 mentre il sistema solare viene veramente attivato diventa carico a livello plasmico a livello orgasmico secondo l'accademia delle scienze sovietica il sistema solare è migliaia di volte più denso rispetto a quello che era nel 63 il sistema solare interno è 60% più denso quindi la nostra realtà diventa di conseguenza più denso c'è pressione, c'è fusione in movimento in ogni direzione c'è un esagono c'è un esagono sul polo sud di Nettuno c'è un esagono sul polo nord di Saturno a una cascata di pentagoni di distanza più di cento anni fa Sir Arthur Cayley, un fisico aveva creato una fisica multidimensionale dicendo che se una sesta dimensione fosse connessa a una sfera rotante l'impronta di quella dimensione sarebbe un esagono noi vediamo esagoni multipli un dito si dimensi multiple hexagoni di fingerprint a sei dimensioni e da tante impronte multiple es-es-impronti quindi c'è una convergenza multidimensionale secondo gli Emanuels una nuova energia sta sopraggiungendo fin dal 1991 This is just a gradual Hubble Space Telescope of photographic analysis from 96 to 2002 Allora in questa è un'analisi del Hubble Space dal 96 fino al 2002 dove il corpo di luce del pianeta Nettuno viene attivato e questo continua a tutt'oggi come le stazioni sul sistema solare la NASA ha filmato dei veicoli via fotografica in molti filmati al di sopra di tempeste di fulmini che sono dei reattori adronici che permettono alla fusione degli stati eterici di essere disaccoppiata in stati quantici Questi si muovono in modo indipendente non rimangono in una orbita questo è un gruppo di loro vengono energizzate da questa forza dell'hadronica della tempesta di fulmini e formano un cerchio di dimensione di chilometri questo è abbastanza ben conosciuto in altri film il incidente di tether del satellite del missione del space shuttle 75 allora qui è una cosa che è stata ben documentata qual'è il nome del missione? è STS 75 allora STS tratto 75 il satellite è tether il tether è several kilometers 12 miles long 90 kilometers questo tether è lungo 19 chilometri e' questa cosa qua questi oggetti vanno dietro al tether come quell'oggetto a forma di ciambella che c'era vicino al sole che era grosso di tanti chilometri e si lavorano nel sincronizzare le nostre sincronicità l'ufo che fu filmato sopra Roma nel 94 rilasciare delle piccole sfere di plasma quelle sfere di venti quelle sfere di venti è come se svolgono delle coincidenze e amplificano le nostre esperienze in coincidenze significative sincronicità di alto livello come ad esempio quando uno vede undici undici o ventidue ventidue su una come si dice le cose della mattina su una targa dell'automobile e poi si scopre di essere nella stanza numero ventidue e cose di questo genere entrambe le forme a pesce e il cerchio con l'occhio all'interno sono considerate essere gli scarchi e gli stargates dei Manu in Rigveda i rigveda sono il manoscritto più antico dell'umanità molti migliaia di anni precedenti dei testi sumeri della valle di Mirgara nel Pakistan migliaia di anni prima dell'idea degli Anunnaki che sono comunque anche quelli dei nomi sciamanici in uno dei nostri grossi libri che si chiama The Soma Conspiracy documenta questo fatto the Rigveda was altered by ultra terrestri allora i rigveda, gli autori degli rigveda sono degli ultraterrestri and gives a genealogy che danno una genealogia of humanity dell'umanità that goes from ultra terrestri che va dagli ultraterrestri to Deva Akasha o agli dei dei dello spazio lineages that go to Zorathustra degli gnanji che vanno a finire a Zoroastro and into the Sumerians and to the Egyptians to the Europeans so you have a genealogical unified cartography that can trace our ultra terrestri to the Manu as they are called the Rigvedic Manu are the co-creators of the Omniverse but we all are the Manu our super self is called the Ati Manu il nostro super self is the Ati Manu noi siamo i Manu i Manu sono i co-creatori di questo Universo all over the planet these donut like vehicles su tutto il pianeta questi veicoli in forma di ciambella vengono filmati questo è in Amsterdam in 2007 nel 2007 in 2005 in Mexico nel 2005 nel 2005 filmato dalla polizia questo è in Russia che è in Inghilterra che è in Inghilterra nel East Sussex nel 2005 il tipico portale or Stargate o forma a Stargate in the Space Shuttle e space shuttle missions i veicoli plasmici vengono evidenziati i veicoli plasmici i veicoli plasmici l'ho vedete qua e un'altro si manifesterà qua tra un attimo as a donut con una ciambella col buco e vanno da questa posizione e poi compaiono in questa posizione le tecnologie ultraterrestri vanno in forma plasmoide i plasmoidi sono ben documentati nelle missioni spaziali sia dalle missioni spaziali della NASA che quelle sovietiche ora un astronauta un russo vide questo UFO che diventò poi trasparente c'era un uomo all'interno che diventò forma plasmoide e poi svanì quindi vide l'intelligenza al suo interno e ci sono tante descrizioni di queste cose da parte degli astronauti fa parte dell'uomo originale da cui noi deriviamo ora la NASA ha fatto delle rivelazioni sulla Fox News in 2006 l'otiziario Fox del 2006 quando il manager del programma Space Shuttle Wayne Hale spoke about that the Space Shuttle had to be stopped from landing disse che lo Space Shuttle doveva essere non doveva più atterrare because of these UFOs a causa degli UFO so by three days in tre giorni e poi ha detto che nel corso degli anni hanno inseguito molte di queste cose ma raramente sono riusciti a capire da dove provenessero e hanno sempre, quasi sempre scoperto che non erano motivo di minaccia quindi la NASA non nasconde più questo fatto quello di cui però non parla molto è che quando delle armi stavano per essere messe nello spazio gli UFOs fermavano il lancio dello Space Shuttle perché conteneva delle armi with STS-133 STS-136 Space Shuttle Mission 150 quella missione era Space Shuttle Mission 150 è il film so it was about a bit of take off questo stava per partire you'll see the exhaust here guardate qua i fumi ma deve fermarsi perché ci sono questi UFO nel cielo 5 volte in a row 5 volte di fila questo succede they were only allowed to go into space era concesso di andare nello spazio once the weapons had been removed solo una volta che avevano rimosso le armi dal razzo so our nuclear weapon systems quindi i nostri sistemi di armi nuclear that affect the ultra-terrestrial dimensions che andrebbero a influenzare le dimensioni di inter-terrestri vengono pesantemente controlle e questa è una cosa buona il contatto del governo con le intelligenze ultra-terrestri è dagli anni 40 che va avanti e questo è stato documentato abbiamo scritto un 600-page book on the subject 24 anni fa ho scritto un libro di 600 pages qui c'è un memorandum declassificato del 46 di luglio describendo che questi uomini non sono astral non vengono da altri planeti ma vengono da Locas e Talas the Locas and Talas are described in the Kuranas and the Rig Veda much earlier e i Locas and Talas che sono descritti nei Kuranas as different planetary waves of life che sono diverse onde planetarie dove different times and different rules of physics occur dove diverse forme temporali avvengono now in 1950 ora nel 1950 the Canadian government established contact il governo canadese fece crea un contatto hundreds of Canadian government memorandum were declassified centinaia di memorandum del governo canadese sono stati declassificati and the chief of communications of Canada e il capo delle comunicazioni del Canada Wilbur Smith Wilbur Smith was given a project to study UFOs a lui fu dato un progetto di studio degli UFO he invented many of the antenna systems during World War II e durante la Seconda Guerra Mondiale aveva inventato uno stato di sistemi di antenna he met with a secret group in Washington that was studying the same phenomenon si è rincontrato con il gruppo segreto di Washington che studiava lo stesso fenomeno the document, which is a factual document says it's classified higher than the H-Bomb allora questi documenti dicono che sono classificati top secret più o segrete della bomba all'idrogeno and the hydrogen bomb was the most classified project at that time e all'epoca la bomba all'idrogeno era il progetto più segreto but especially what they were focusing on ma quello su cui soprattutto si focalizzavano was mental phenomena erano i fenomeni mentali della mente infatti il dottore che viene citato in questo progetto è il dottore che creò il progetto di controllo mentale M-K-Ultra perché UFOs non lavorano con la propulsione come la conosciamo ma tramite la coscienza la coscienza è la chiave per UFOs allora, il Dr. Smith è entrato in contatto con AFFA negli anni 50 first through Radio Ham both English and Morse code sia quella inglese con la lingua inglese con il codice Morse and then was told to use protocols with tensor beam contact it's like the ether beams dopodichè mi fu detto di usare il protocollo del raggio tensor che è praticamente il raggio ether nel governo canadese aveva più di 200 contattisti che ricevevano informazioni da AFFA che ricevevano informazioni da AFFA che ricevevano informazioni da AFFA e corpi specializzati beginning in 1942 fin dal 1942 were described the ships as alive che descrivono che le astronavi sono vive and if you looked at the screens you would become the screens many psychics were used you have Mrs. Swan who then has contact with AFFA according to this declassified memorandum signed by a naval admiral che è firmato da un ammiraglio navale independently a group of people were receiving radio contacts un altro gruppo indipendente riceveva dei contatti radio in the 450 KC area in Morse code it was AFFA in 1952 they did not know of the secret Canadian government telepathic contacts or radio contacts they were communicated about a project NQ707 at Edwards Air Force Base communicating with UFOs and they signed a sworn affidavit to having observed these contacts and they signed a sworn affidavit to having observed these contacts specializing into our reality they spoke of space stations taking an orbit around planet Earth artificial satellites before satellites were being reported by scientists all over the world the psychic Mrs. Swan was also being told about these satellites this signor Swan questa sensitiva lei fu detto anche di questi satelliti astronomer Dr. Bagby Bagby questo astronomo publishes his findings pubblica le sue scoperte all these exact space stations di queste esatte stazioni spaziali which were releasing information che emettevano informazioni later published in Nature magazine a kind of bible of science tutto questo viene pubblicato poi anche sulla rivista Nature che è una sorta di bibbia scientifica queste manifeste stazioni ultraterrestri were sending information exact information mandavano e mettevano informazioni esatte the NSA was created to decipher them la NSA NSA fu creata per questo in 2011 the NSA were forced to release two documents nel 2011 l'NSA è stata obbligata a rilasciare due documenti through court battles of the 1970s attraverso delle battaglie in tribunale che andavano avanti fin dal 97 which were supposed to be released in 2003 che di fatto doveva essere rilasciato nel 2003 but it took until 2011 ma ci è voluto fino al 2011 for them to be actually released on their website perché rilasciassero questi documenti sul loro sito 21 communications and the deciphering of the messages e il decifragmento, il decifragio di tutte le informazioni, dei messaggi right now an official public fact on the NSA website nsa.gov questo lo potete trovare sul sito dell'NSA NSA was created to for intercepting communications con queste intelligence con queste intelligenze di ultraterrestri nel 54 nel 54 di febbraio in questa base attraverso le comunicazioni Allora, la comunicazione è avvenuta in modo tale che questi esseri eterici si manifestassero cinque astronavi. Allora, degli speciali rappresentanti vennero portati alle basi. Inclusi anche proprio il bescovo McIntyre del Vaticano. Gli esseri si presentarono prima in forma eterica, che è la Homo Universalis, la forma universale, dopodiché presero una forma umana di luce. Anche Eisenhower era presente. Vendero portati in un hangar, held at gunpoint. Loro attraversavano i muri. Si rendevano visibili e invisibili. Erano preoccupati dei nostri esperimenti con la bomba all'idrogeno. E hanno dato degli avvertimenti pesanti su questo fatto. A qualche settimana dopo la bomba all'idrogeno. E dopo di che c'è stato proprio un aumento del controllo UFO sulla bomba. Dopodiché c'è stato proprio un aumento del controllo UFO sulla bomba. Perché l'idrogeno è il 90% dell'universo. 92% dell'universo. Il 92% del nostro intero corpo. 8 hertz, resonance. E la risonanza degli 8 hertz. It is the musical tuning of the topology of the universe. It's the heart-mind of the universe. E gli 8 hertz sono la mente-cuore dell'universo, della topologia universale. The foundation of all dimensions. E il fondamento di tutte le dimensioni. It's not allowed to be distorted. E non è concesso distorti. Some of the ships were left behind. Alcune degli astronomi sono state lasciate indietro. The first testimony was Dr. Gerald Light. He was in metaphysics. Il primo che ha fatto la sua testimonianza è stato il Dr. Gerald Light in metaphysica. He called them the ethereans. Lui li chiamava gli eterici, gli eteriani. He described them materializing and dematerializing. Il descrisse che si materializzavano e smaterializzavano. The scientists being shocked. Scienziati erano scioccati. As their technology was thought technology. Perché la loro tecnologia era... Everything they believed to be reality was turning upside down. E tutto quello che loro credevano come realtà era stato capovolto. Dr. Light was already quite familiar with this. Dr. Light era piuttosto familiare con queste cose. And was communicating how there are different densities. E gli comunicarono anche come esistevano diverse densità. If you bring the electrons closer to the nucleus. Ci sono diverse densità quando si portano gli elettroni più vicino al nucleo. E anche i nostri contatti ci hanno addestrati in questo, nella fisica atomica. Dr. Ruggero Santilli in 1998 È il primo scienziato ad aver documentato. E ha creato fusione con tutta una nuova serie di materiali, creando le magnecole. Che erano invisibili a noi perché non avevamo la matematica che ci permetteva di creare gli strumenti per vederle. Ma adesso lo vediamo. E in questo gennaio di quest'anno sono state viste. Nel corso degli anni tantissimi hanno fatto da testimoni poi a questi incontri che sono avvenuti nel 50 anni. It was related to the group that flew out of the White House. Questi erano correlati al gruppo che era volato sopra la Casa Piata. Which was communicated by an Ashtar, not Commander Ashtar. Che era comandato da Ashtar, non il Comandante Ashtar. The man who invented the word channeling. L'uomo che inventò la parola channeling. George Van Tassel. George Van Tassel. He had an Air Force Base. Lui aveva una base aerea. He cooperated with Dr. Smith in Canada. Cooperava con il Dr. Smith in Canada. And had ether beam or tensor beam communications. Ed ebbe delle comunicazioni da raggio tensore e raggio eterico. Beginning of 1952. A partire dal 52. Ashtar and the other beings. Ashtar e gli altri esseri. Descrivono gli satelliti artificiali come degli stargates. The shard stations. Shard stations. That's what they call them. Si chiamano stazioni shard. They described their bodies to be bodies of light. Descrivono i loro corpi essere corpi di luce. That could pass through each other. Che possono attraversarsi l'uno o l'altro. They could take multiple forms. Prendere forme multiple. They said they would fly over the White House in July. E dissero che sarebbero volati sulla Casa Bianca a Luglio. They made Van Tessel write a letter. Fecero scrivere a Van Tessel una lettera. Received by telepathy or tensor beam. Che lui aveva ricevuto tramite il raggio tensore e tramite telepatia. And when the UFOs flew over the White House. E quando gli UFO volarono sopra la regione. July 25th and 26th, 1952. Nel 52 e nel giugno del 22 al 26. President Truman. Il Presidente Truman. Was reading the letter. Stava leggendo. The letter said. Do not release military jets to intercept on this direction. Che diceva. Non rilasciare dei jet. Non mandare dei jet militari a intercettare in questa attenzione. Altrimenti succederanno. They're ultra-terrestri. So they exist in past, present and future. Loro sono ultra-terrestri. Quindi esistono in passato, presente e futuro. We know that he was reading that letter at that time. Because the stamp of acknowledgement that he read the letter. Was dated at that and timed exactly at that time. Documentary evidence. Noi sappiamo per prova documentaria. Che lui stava leggendo quella lettera. Perché la stampa, la stampigliatura che è. Di lettura della lettera è di quei giorni. Which makes Van Tassel a genuine contactee. E questo rende Van Tassel un contactee genuino. There are many fake. Ci sono anche tanti falsi. 75% of the crop circles are fake. Ad esempio il 75% dei cerchi nel grano sono falsi. Sono arte canalizzata. The crop circle creators. I creatori dei cerchi nel grano. Receive dreams or inspirations. Ricevono dei sogni o delle ispirazioni. And then when they're making the crop circles. E poi quando fanno i cerchi nel grano. Balls of light. Strange energies. Strange sounds. Delle sfere di luce. Delle energie strane. Degli suoni strani. And the world crop circle expert Colin Andrews. E l'esperto sui cerchi nel grano che si chiama Andrews. Shows that all crop circles. Mostra che tutti i cerchi nel grano. Make one crop circle. Fanno un cerchio nel grano. Ognuno punta all'altro. The real ones and the fake ones. Sia quelli reali che quelli falsi. So there is an artistic impulse. Quindi c'è un impulso artistico. An ultra-terrestrial artistic impulse. Ultra-terrestre. In the fake and the genuine. Sia in quelli genuini che in quelli falsi. It's the same with UFO contacts. E lo stesso male per i contattisti. It's fully coded. This is Dr. McIntyre. It's Dr. Bishop McIntyre. Totalmente codificato. Questo è il Vescovo. Who began the Vatican contact projects. Che diede inizio ai progetti di contatto del Vaticano. There are specific groups. Sono gruppi specifici. In the Vatican. Nel Vaticano. Separate from each other. Separati l'uno dall'altro. The 1954 event involved 250 different people. Allora, l'evento del 1954 aveva coinvolto 250 persone diverse. Eisenhower said humanity was not ready to know about them. Eisenhower disse che l'umanità non era pronta a conoscere questa cosa. They said they would continue to contact humanity from within until they were ready. E allora loro gli hanno detto che avrebbero continuato a contattare gli esseri umani da dentro finché non fossero stati. Inner space is the key. Quindi lo spazio interiore lo siamo. Which is where we are now. Che è dove siamo adesso. Dr. Light came to call the place where they came from planet Aetheria. Allora, Dr. Light ha chiamato lo spazio da dove arrivavano il pianeta Aetheria. If you go into the, um, the Aetheric planes of planet Earth, you're also in the Aetheric planes of the Sun, the Galaxy, and everywhere. Se andate nel piano eterico della Terra, entrate nel piano eterico del Sole e di tutti gli altri posti. Quickly, to summarize this slide show before we take our pause. This year, in the last few years, some of the scientists have announced that there is a shadow biosphere existing right here which have life forms that are made out of amino acid sequences that are imperceivable likewise to our senses, the amino acid sequences that makes our senses. Che sono praticamente impercepibili dai nostri sensi, le sequenze di amino acidi che costituiscono i nostri sensi. Dr. Ruggiero Santilli, the hero of Italy, in January this year took his new mathematics into new telescopes. Last year, he proved antimatter galaxies, antimatter gamma rays, cosmic rays, asteroids with these new telescopes. Allora, questi nuovi telescopi l'anno scorso lui aveva dimostrato le galassie di antimatteria. The Santilli telescope Il telescopio di Santilli uses a concave lens Usa una lente concava Because the light is actually isotopic Perché la luce di fatto è isotopica Matter and antimatter are coexisting La materia e l'antimatteria coesistono E sono un isospecchio Normal galileo-convex telescopes Allora, i normali telescopi galileiani convessi Only registers standard fotonic light Registrano soltanto la luce fotonica standard Mentre invece l'isotelescope Mentre invece l'isotelescope Registrano l'iso-antimatteria and materia space Registrano l'iso-antimatteria e la materia della luce spaziale Sono ben accettati nell'astronomia E quello normale non mostra nulla E invece questo è quello che vede quello di Santilli Intelligenze viventi Che sono sui punti nucleari dell'America Questa è come la luce in alto Va nei telescopi normali E questo è quello di Santilli Quindi registra sia la luce della materia Che la luce dell'antimatteria Questi oggetti continuano a stare sopra le nostre false militari Faccio un'opera Allora, la biogenesi ultramirrestre dell'uomo E che è quello di cui noi siamo parte oggi Questa fa parte della nuova fisica di Santilli Non della meccanica dei quanti Ma della fisica del tutt'uno Questo è il dottor Santilli Questo è il suo reattore Che inverte Inversione nucleare Che può prendere questi scarti nucleari Cacca, merda La trasforma in un superconductor In isomateria E questo poi viene inserito in un'auto Come la sua Ferrari Questa è la vecchia fisica della meccanica dei quanti Quindi se sentite la gente eccitatissima a parlare della meccanica come dei quanti Parla di quella macchina lì Il modello del 34 Che non riesce a descrivere i sistemi inventi Descrive solo i sistemi morti Questa è una macchina adronica Che lavora con isosuperconductivity Che lavora con isosuperconductivity Energia pulita È una vera nuova fisica Completamente pratica Nata nel 1997 Che continua a far breccia È completamente tabù per il mondo scientifico Ma non per il mondo delle scienze Santilli ha ricevuto diversi premi Anche in Italia San Marino Ma l'elite scientifica non vuole che voi sappiate Perché rivoluziona chi noi siamo La vita è una macchina del tempo La vita è una macchina del tempo La vita è una macchina del tempo È in a past, present and future state È hypergenetics È un segreto corporativo Vivere la vita È un ipergenetico A causa di questi nemici ostimi Nel mondo scientifico Perché vogliono cercare di stoppare Di fermare altri Noi non siamo tridimensionali Noi siamo iperdimensionali La fusione è controllata nucleare Dall'acqua ai cristalli E altri elementi È stata fatta a temperatura corporea Skin pressure Con pressione cutanea Water is the superior superconductor L'acqua è il superconductor Superiore And is the majority of our body Che costituisce la maggior parte The pressure is already there in our body La pressione è già presente nel nostro corpo The lightning is orgasm Il turbine è l'orgasmo Questa è l'isounità in rotazione È l'equilibrio Di materia e antimateria È anche l'unità a 8 Hz Noi abbiamo fatto questo modello almeno 4 anni prima che la isounità fosse scoperta 8 Hz 8 Hz 8 Hz Is the key of 432 Hz music Sono la chiave della musica a 432 Hz The music you're listening to now La musica che ascoltate adesso Studies with classical music Gli studi fatti sulla musica classica Show that only 432 Hz music Mostrano che solo la musica a 432 Hz Non la musica a 440 Hz Nel corso di 18 mesi Ha creato un miglioramento in una varietà di casi psichiatrici Questo è stato fatto attraverso la sincronizzazione 8 Hz is the sincronization of the brain Gli 8 Hz sono la sincronizzazione del cervello So l'italian great musician Verdi had it right with scientific pitch 432 Hz is the revolution of the music of unity Quindi il musicista italiano Giuseppe Verdi ce l'aveva chiaro quando voleva fare questa cosa I 432 Hz sono la rivoluzione in campo musicale 8 Hz passes through the electromagnetic vacuum Allora, gli 8 Hz passano attraverso il vuoto elettromagnetico Un triplo vuoto con tre strati di rame 8 Hz passano attraverso, non c'è niente che lo può attraversare Ma con gli 8 cicli al secondo non c'è problema Sono state fatte numerose generazioni di studi su questo Fin degli anni 50 Allora, l'unico modo in cui gli 8 Hz possono passare attraverso questo triplo vuoto Una gabbia di ferro E se fanno un'autorotazione nell'iperspazio Che è allo stesso tempo locale e non locale 8 Hz is the musical symphony of our body all the time Gli 8 Hz sono la sinfonia musicale del nostro corpo sempre 8 Hz is linear and non-linear Lineare e non-lineare 8 Hz sets up a golden proportion of harmony Gli 8 Hz innescano una proporzione aurea di armonia This is the 1952 early Faraday cage Questa è la primitiva Faraday cage La gabbia di Faraday 52 Che ha documentato questo Che è stato fatto con dei sensitivi 8 Hz is the key to remote viewing Gli 8 Hz sono la chiave della psicometria Della piegare i cucchiai Della visione a distanza E gli 8 Hz compaiono prima che si manifestino gli UFO E gli 8 Hz passano attraverso un superconduttore E gli 8 Hz passano attraverso un superconduttore Nient'altro passa attraverso un superconduttore Allora, l'analisi della L'acqua 8 Hz dice che i guaritori di tutti i background Sono genuini Rilasciano dalle loro mani Una firma di frequenza 8 Hz più o meno Che siano buna, nativi americani, cattolici o ebrei E questo segnale a 8 Hz può rimanere lì per dei mesi Gli 8 Hz inducono 8 Hz nel paziente che di conseguenza si autoguarisce Il nucleo del DNA è in costante arrangiamento a 8 Hz Che fa figli a 8 Hz per 7 250 volte al secondo in una molecola del DNA Questo succede adesso, è il nostro fondamento 8 Hz è l'amore in azione Gli 8 Hz sono amore in azione Perché gli 8 Hz sono la coniugazione di fase Che cancella in fase Tutte le polarità In coerenza di fase L'oro dell'amore in infinita ricorsività Ma non soltanto il fi locale, la proporzione aureo-locale Ma anche transiente Quindi locale e non locale Allo stesso tempo uomo ultraterrestre e uomo terrestre Questo è il fondamento di chi noi siamo La scintilla che succede quando il DNA si divide a 7.2 gradi Ha un minuto di arco di 432 Questa è la scintilla innescata dagli 8 Hz A 432 minuti di arco E altri fattori Related to the sun and the moon Relationati al sole e alla luna Ma non possiamo parlare Il sole e la luna sono artificiali Entrambi ruotano a 27 giorni Quando l'acqua viene elettrolizzata a 8 Hz O 8, 8, 8, 8 Hz O 8, 8, 8, 8, 8 Hz Quindi l'elettrolisi dell'acqua sterile a 8 Hz nel corso di 72 ore Produce la musica della creazione La cordatura della vita La cordatura della vita E questo outline, questa delineazione dei 432 Hz La croce del 432 Hz Quindi dove una dimensione viene espirata o respirata nella nostra dimensione E produce le proteine della vita Out of sterile water Dall'acqua sterile 8 Hz creates life Dall'acqua sterile Gli 8 Hz creano la musica della vita 8 Hz sets up in water 512 Hz in a whole musical side band Which produces fractal life Ecco, quindi gli 8 Hz 72 ore nell'acqua sterile Producono 513 Hz This is the source of life This is the intelligence of the universe The heart, mind of the universe Questa è l'intelligenza dell'universo Il cuore, mente dell'universo 8 Hz Is the peak of the moment The heart of the moment Love 24 years of studies by the HeartMath Institute Heart at the moment of love 8 cycles per second Producing 8 cycles per second in the brain Producing 8 cycles per second at the belly And the golden proportion to scale 8, 8, 8 Love, life and light Amore, luce e vita And also producing a golden cascade in a tree E producono anche una cascata aurea in un albero The geometry of the DNA itself La geometria del DNA itself So 8 Hz Quindi gli 8 Hz Is love and action E sono l'amore in azione 8 Hz sets up the cascade of music That is our creation Gli 8 Hz innescano la cascata musicale Che è la nostra creazione Il sistema del temperamento equabile Il DNA è direttamente influenzato dall'amore compassionevole Negli studi a cieco Dove l'amore compassionevole viene misurato DNA is focused upon Ok Ci si focalizza sul DNA In amore compassionevole In amore compassionevole Con picco 8 Hz Col picco 8 Hz And it changes E cambia il DNA No change at all If there is no compassionate love Se non c'è amore compassionevole Non c'è nessun compassionevole We are complete and out of genetic robots Unless we are in compassionate love Noi siamo totalmente dei robot genetici Se non siamo nell'amore compassionevole So for the first time in history Genetic free will is being revealed to humanity Quindi per la prima volta nella storia Il libero arbitrio genetico è stato rivelato all'umanità Objectively Oggettivamente And you can do it immediately E si può fare subito 3 risultati allo stesso tempo Non-herziana Forme non-herziana Non-herziana Love transcends physics Cioè l'amore trascende la fisica It goes beyond the hertzian notion Of a mechanical universe Va oltre la nozione degli hertz Di un universo meccanico 3 different results at the same time 3 diversi risultati contemporaneamente By one individual Applying consciousness With compassionate love Grazie a un individuo Che applica la coscienza Tramite l'amore compassionevole It's not just 8 Hz It's not just compassionate love It's consciousness Compassionate love 8 Hz Non sono solo gli 8 Hz Non è soltanto l'amore compassionevole È la coscienza degli 8 Hz This is true satiance Questa è la vera satiance This is where we wake up To our genetic biogenesis This is where the ultra-terrestrial man Is emerging E' qui che emerge l'uomo ultra-terrestre And now anyone E' ora chiunque Can engage this Può innescare questo See objectively When you're producing love Con quello strumento Vedere oggettivamente Quando producete amore You do deep Harmonic breaths And you start to glow And get blissful In the heart And it shows Fate delle profonde respirazioni Entrate in questo stato di beatitudine E lo vedete And it's based on this golden symmetries And 8 Hz peaks Sì Basa su questa simmetria aurea E questi picchi On the heart cloud There are even olympics of love People who are able to maintain Compassionate love The longest and the strongest Ovvero le persone che riescono A mantenere l'ore compassionevole Più a lungo E più intensamente possibile C'è tutta una scienza Di gestione dello stress Depression is treated All kinds of different Psychiatric Symptoms Trattamento di casi psichiatri Cortisone goes down DHEA goes up Cortisone Stress hormone DHEA The mother of all hormones Goes up with just 20 minutes Of compassionate love So compassionate love In 20 minutes Is the anti-aging pill And it's the only way We can affect our DNA Ed è l'unico modo In cui possiamo influenzare Il nostro corpo Per la primissima volta In our history Oggettivamente Nella nostra storia Oggettivamente Questo è il messaggio Dell'intelligenza Nel 98 Un'internet di raggi gamma Fu osservato su tutta la galassia Un laser di raggi gamma Fu mandato sul nostro sistema solare Nella proporzione It changed the sun It was recorded by scientists I hold the documentation Ha cambiato il sole Questo è stato registrato Documentato dagli scienziati The sun transduced This golden proportion The same as love Allora il sole Ha trasdotto Qui questo in proporzione Aurea Come l'amore L'amore innesca Questa simmetria L'ha praticamente Trasmessa sul pianeta Terra La magnetometra The magnetic field Of the earth Registration station La stazione di registrazione Del campo magnetico Della Terra Shows the same geometry Mostra la stessa geometria The geometry Of compassionate love La geometria Dell'amore con Posse Appearing in the magnetic field Of the planet earth Che compare Sul campo magnetico Del pianeta Terra And then the lowest Energy in the universe E poi l'energia Più bassa Dell'universo Extremo low frequency 1.618 1.618 hertz Which is the golden Proportion 1.618 Che è la proporzione aurea Switches on All over the planet Accende tutto il pianeta And becomes daily By 1999 E diventa una cosa Giornaliera Entro il 1990 Scientist in military bases Gli scienziati Nelle basi militari Are seeing Particles of light Teleporting into our bodies And biology in general Vedono delle particelle Di luce Che vengono Teleportate nel nostro corpo Nel nostro biologico In generale And producing The 8 primal cells In 27 minutes Producendo le 8 cellule Primarie In 27 minuti This is the portal Questo è il portale This is the particle Questa è la particella La particella La particella è guaritiva It is incorporating viruses Incorpora il virus Into the human germ line Nella linea umana dei germi This is being seen with HIV AIDS cases Questo è stato visto proprio in casi di AIDS Where HIV becomes incorporated Where HIV becomes incorporated into the human germ line Giving new powers of humanity Dove praticamente il virus Il virus dell'AIDS viene incorporato E dà nuovi poteri all'umanità And more importantly This particle Responds to sound E in modo particolare Questa particella Risponde al suono It's a response To the harmonic Spectrum Of 432 hertz And 8 hertz Risponde allo spettro armonico Del 432 e degli 8 hertz 8 hertz Is 5 times 1.618 hertz The extraterrestrial signal That was downloaded By galactic love Allora Gli 8 hertz Sono 5 volte 1.618 Che è il segnale Che è stato appunto Scaricato And 432 hertz Is 267 times 1.618 267 volte 1.618 That is the wave Or lasers Of the gold of love 267 times Che è praticamente L'onda o il laser D'amore È moltiplicato Per 267 volte The musical system Set up by that E un sistema musicale Organizzato in questo modo Produces new life Produce una nuova In the electrolysis of water It cura 27 malattie organiche Nell'elettrolysis dell'acqua Cura 27 malattie organiche And Dr. McDowell Who was doing this research E il Dr. McDowell Che faceva una ricerca Found that these teleporting particles Scoprì che queste particelle Teleportate Were singing And responding to the voice Cantavano E rispondevano Alla voce So it's an above Top secret fact Quindi è un fatto Di sopra del top secret That ultra terrestrial Intelligence Is in us now Che le intelligenze Ultraterrestri Dentro di noi ora And is ready For our mantra yoga Sono pronte Per il nostro mantra yoga Our harmonic sounds E i nostri suoni armonici The science of mantra Is downloaded in history For this time now La scienza del mantra Scaricata nella storia Per questo tempo Ora Compassionate love Changing the DNA L'amore compassionevole Cambia il DNA Armonic sounds Vocalized Compassionate love Con i suoni armonici Vocalizzati Dell'amore compassionevole Steering the ultra terrestrial Intelligence Within as us Che pilotano Le intelligenze Ultraterrestri Dentro di noi E come noi And things like Ebola And other viruses Are being transformed Le cose come l'ebola O altri virus Vengono trasformate There's a lot going on In humanity Un sacco sta succedendo Nell'umanità Enormous amounts Delle quantità enorme Ma la chiave È l'amore compassionevole Consciousness Compassionate love L'amore compassionevole Incosciente Che per la prima volta Nella storia Ora è oggettivo Ed è disponibilmente Oggettivamente Per tutti This is when we become man Lì è dove diventiamo Uomini Prima siamo sub-uomini Questo è il passaporto Per il cosmo Ed è Ha avuto inizio Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti